Mi sembra un po' una pazzia però questa proposta. Massimo Bitonci non ci sta. La proposta del prefetto Domenico Cuttaia di coinvolgere anche i privati per assegnare un'abitazione ai profughi non piace al sindaco Padovano. Ai cittadini che mettono a disposizione le loro case verrebbero assegnati 35 euro al giorno per migrante. Questa è la proposta di Cuttaia, ma per Bitonci la posta in gioco è più alta. Ricordiamoci che 8 su 10 non otterranno il riconoscimento come profughi. Quindi vuol dire che quegli 8 sono in effetti dei clandestini. Un problema, dice Bitonci, legato anche alla sicurezza. Come si può pensare di mettere delle persone che non conosciamo all'interno di abitazioni private perché magari il privato ha una casa in più, una casa magari malmessa e pensa di poter lucrare mettendo dentro magari anche più persone. Mi sembra veramente un'ipotesi di uno Stato che non c'è più. Se per il sindaco la questione andrebbe risolta a livello europeo e con il blocco navale, i padovani affrontano il problema da un altro punto di vista. Abbiamo bisogno dei nostri primatori, nonostante che sia fuori strada. Aiutare tutti, anche l'italiano che sta soffrendo in questo momento, ogni momento di crisi e di lavoro, che stiamo facendo i salti mortali per tenere avanti un'attività come questa. Purtroppo il problema è molto più grave e le istituzioni hanno tante case sfitte, tanti immobili, potrebbero dargli loro. Dovrebbe essere un problema affrontato in sede europea e non che adesso noi ci facciamo carico di queste persone.